Prima di andare avanti avevamo una domanda in sospeso di Vittorio, il quale ha chiesto come mai sono morti i primogeniti degli animali. L'hai chiesto tu? Non ti sentiamo. No, non ero io. No, 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 allora era Stefania che non c'è. Poca importa, la sentiamo più tardi, perciò rispondiamo comunque. La domanda era, abbiamo spiegato la settimana scorsa, che nella morte dei primogeniti sono morti i primogeniti egizi, ma anche i primogeniti degli animali. E anche i primogeniti di chiunque si trovava in Egitto, per esempio erano lì dei, come si chiamano, dei prigionieri di guerra in Egitto, che non erano egiziani, erano prigionieri di guerra. Anche i loro primogeniti sono morti. Tutto quello che era nel suolo egizio, che era primogenito, moriva. Scusate. Allora la domanda giusta è cosa hanno fatto di male i primogeniti degli animali. Allora, una risposta è che anche gli animali, essendo non soltanto il capretto, ma quanto pare gli animali in generale, erano l'idolatria dell'Egizio. Non solo capretto, barra, agnello, ma qualsiasi animale. Perciò, essendo una divinità, tutto quello che è, che diventa, come si dice, un idolo, va distrutto. Perché va contro l'unicità di Dio. Ma nel specifico, perché proprio il primogenito, ecco, è una sorta di, una cosa che è direttamente proporzionale. Ovvero, nella Torah il concetto di primogenito è una cosa molto importante. Il primogenito di una famiglia, il Behor, cos'è? Appartiene a Dio. Tant'è che quando in una famiglia nasce un bimbo maschio primogenito, il papà deve riscattare. Perché ogni primogenito è per Dio. C'è scritto quello, Dio scrivendo la Torah, tutti i primogeniti sono miei. Vuol dire che i primogeniti sono una cosa importante agli occhi di Dio. E stavo dicendo che una persona, quando rinasce un maschio primogenito, appartiene a Dio. Perciò il papà, tutti i giorni dopo la circoncisione, deve andare a riscattare, vuol dire a ricomprare dietro il proprio figlio da Dio. Chi è il rappresentante di Dio sulla terra? Il Kohen, il sacerdote. Perciò l'alachà dice, non è un'usanza, proprio l'alachà, che chi ha un figlio, un primogenito maschio, dopo la circoncisione, deve andare a dare cinque monete al Kohen, a un Kohen che lui desidera. È come se lui sta riscattando, sta comprando il suo figlio da Dio. Perché appunto il sacerdote rappresenta Dio. Perciò il primogenito ha un'immensa importanza nella Torah. Ma non soltanto il primogenito umano, anche il primogenito animale. Bisognava dedicarlo a Dio. Ogni animale, il primo animale che usciva era da Dio. Perciò qua vediamo, qui in altri posti, che il primogenito era, nelle famiglie, era colui che continuava la presenza del papà. Una volta che il papà mancava, il primogenito prendeva il suo posto. Il primogenito prendeva, diciamo, se c'era una dote, se c'era un'eredità, il primogenito prendeva doppio degli altri. Perciò vediamo in tanti posti diversi, negli insegnamenti della Torah, che il primogenito è particolarmente importante. Perciò anche, visto che è direttamente proporzionale, tutto quello che c'è nel campo del bene e della santità, Dio l'ha creato anche nel campo dell'impurità. Perciò è una sorta di parcondicio, tutto quello che trovi nel mondo del bene e lo trovi anche nel mondo dell'impurità. Dio ha dato forze di qua e di qua. Perciò, seguite il filologico, se nel mondo ebraico, se nella chidusha, nella santità, il primogenito ha un'importanza molto grande, come abbiamo brevemente detto, perciò anche nell'altra parte, nella parte dell'impurità, il primogenito è anche importante, più degli altri. Perciò in questo momento di distruzione del male, perché abbiamo detto che l'ultima piaga veniva a distruggere tutto ciò che è male e tutto ciò che è idolatria e così via, perciò di conseguenza il primogenito anche degli animali e di qualsiasi cosa si trovasse in Egitto, in quel momento ogni primogenito doveva morire, perché l'importante era soltanto il primogenito della santità. Perciò doveva essere eliminato tutto quello che è primogenito in Egitto, perché era la fonte di tanta impurità. Così come il primogenito nell'ebraismo è molto importante, lo è anche nel contrario, perciò nel impurità, perciò va eliminato. Spero che sia abbastanza chiaro. Se avete domande, prego. Ok. Andiamo avanti. Eravamo rimasti al passo 35. Nel 34 avevamo letto che Pagina Ravos, per favore. Pagina 198, passo 35. Praticamente avevamo letto che siamo in mezzo alla piaga, appunto della decima piaga, gli egizi cominciano a fare pressione agli ebrei per mandarli via, perché vedevano che appunto la morte di primogeniti, perciò volevano smettere di morire, perciò hanno fatto pressione di mandare via gli ebrei. Il faraone stesso, vi ricordate, andava in giro di casa in casa a cercare Mosea a Romme per dire andate via. E il 34 abbiamo letto che il popolo portò via il suo impasto prima che gli evitasse, perciò l'indomani. Tutto questo è successo la sera. Già dalla sera il faraone in mezzanotte va a rincorrere a cercare Mosea a Romme. Però tutti sono usciti e usciti. Perché gli ebrei non volevano uscire, non dovevano uscire in mezzanotte come se stessero scappando. Gli ebrei sono presi comodo e sono usciti l'indomani, proprio in mezzo al giorno, alla luce del sole, noi usciamo a testa alta e non scappando, non di notte. Abbiamo detto che appunto loro la mattina avevano preparato l'impasto e l'hanno portato con un set perché non c'era tempo di cucinarlo. Gli ebrei sono usciti con tutto quello che avevano e l'impasto del pane non ancora cotto. 35. I figli di Israele eseguirono ciò che aveva detto Mosea e richiesero agli egizi oggetti d'argento, oggetti d'oro e indumenti. Mosè chiede agli ebrei sotto comandamento di Dio. Dio dice a Mosè di agli ebrei che prima di uscire devono assolutamente andare a chiedere agli egiziani oggetti di argento, oro e indumenti, indumenti all'epoca erano indumenti di molto valore, di seta e cose varie che avevano un grande valore. Ok? Vediamo il 35 che lo dice. Niente, 36. Perciò tutto questo ve lo pronuncio. Tutto questo è perché quando Dio ha parlato ad Abramo 400 anni prima dicendo sappi che i tuoi figli andranno in diaspora e saranno schiavi eccetera, però Dio dice però dopo questa avventura usciranno con grandi ricchezze. No? Adesso che proprio siamo alla vigilia dell'uscita dall'Egitto Dio gli preme che gli ebrei escono veramente con oro, agento e cose varie. Perché? Che non si dica che Dio ha promesso la schiavitù e l'ha mantenuta bene invece quando Dio ha promesso la ricchezza e questo non l'ha mantenuta. No? Ma cioè lui non poteva avere nei confronti di Abramo un qualcosa di irrisolto. Io ti ho detto che i tuoi figli andranno in diaspora questo l'ho fatto ma ho anche detto che usciranno con grande ricchezza allora Dio dice eh no io davanti ad Abramo ho la responsabilità devo fargli uscire per forza mi urge che loro escono con tante ricchezze perché? Eh perché poi Abramo non mantiene la mia parola se no ma cioè Dio ricorda a Mosè mi raccomando via agli ebrei di andare a prendere l'oro e la gente perché devono uscire con delle ricchezze e questo era il passo 35 36 Hashem rese il popolo popolo ebraico gradito agli egizi che glieli donarono gli egiziani in quel momento avevano trovato gli ebrei avevano trovato grazia agli occhi degli egiziani una cosa fuori da normale perché per ora gli egiziani gli ebrei erano schiavi e poi tra l'altro gli ebrei erano la causa di un anno di piaghe di sofferenza di distruzione dell'Egitto gli ebrei erano la causa ovviamente gli ebrei dovevano essere odiati normalmente invece qua dice Hashem ha fatto un miracolo che gli ebrei invece trovassero grazia agli occhi degli egizi e gli ebrei svuotarono l'Egitto come Dio gli aveva chiesto delle loro ricchezze andiamo a leggere il commento 36 che dice agli egizi letteralmente dell'Egitto ok gli chiesero allora abbiamo detto che gli egizi donarono tutto quello che gli ebrei hanno chiesto gliel'hanno dato e non prestarono perché come potrebbe sembrare letteralmente in ebraico c'è scritto va' isha'alum dov'è dov'è va' va' isha'alum va' isha'alum può anche essere come hanno chiesto il prestito allora che non si dica ah gli ebrei hanno chiesto il prestito e poi ce la sono svignata e non sono più tornati a rendere perché quello diventa furto se tu mi dici dammi in prestito qualcosa io te la do e poi te la rendo fra un mese se io te la rendo mai più ti sto rubando no? allora qui il commento viene a sottolineare attenzione gli ebrei non hanno chiesto in prestito perché sanno che stanno per uscire in eterno sarebbe un inganno sarebbe rubare e noi ebrei non facciamo questo perciò nessuno lo fa nessuno deve farlo con dieci comandamenti perciò loro non hanno chiesto in prestito come si potrebbe anche il verbo potrebbe essere tradotto anche chiedere in prestito bensì hanno chiesto di avere adesso dice non c'è dubbio che questo cambiamento radicale nel rapporto tra egizi ed ebrei dal peggior asservimento fino al generoso dono degli oggetti preziosi fosse un grandioso migracolo ovvio prima erano schiavi odiati adesso di colpo e dando tutte le loro richesse ovviamente qua c'era il dito di Aschen ciò che rese però tale fenomeno tanto insolito fu la reazione degli egizi che videro questo nuovo stato come una cosa naturale per loro era di natura di voler dare a cuor pieno qualsiasi cosa gli ebrei chiedessero essi stessi gli egizi sentirono la necessità di aiutare gli ebrei e di dare loro spontaneamente anche ciò che non era stato richiesto come afferma il versetto Aschen rese il popolo gradito agli occhi degli egizi o fece in modo che il popolo piacesse agli occhi degli egizi è una cosa che Aschen ha fatto anche se si considera l'eventualità che si fossero sentiti in dovere di indemnizzare gli ebrei per 200 anni di schiavitù di lavori forzati perciò anche se vogliamo dire che loro in realtà si sentivano in debito con gli ebrei per tutto il lavoro fatto per 211 anni allora loro volevano in qualche modo ripagarli di quello che è successo rimane evidente che un simile impulso di generosità da parte degli egizi non fosse altro che un fenomeno miracoloso in vesti naturali per quanto possiamo anche magari dire che gli ebrei che gli egizi si sentivano in colpa e volevano in qualche modo indennizzare la schiavitù comunque non era una cosa naturale era una cosa miracolosa il libro di Michal è scritto nel libro di Michal è scritto a proposito dell'epoca messianica c'è scritto così che mostra che meraviglie come ai giorni in cui uscisti dall'Egitto c'è scritto così quando noi usciremo noi usciremo dalla diaspora cioè quando arriverà Mashiach c'è scritto che così come i miracoli che loro e i nostri padri hanno visto uscendo dall'Egitto anche noi quando usciremo uscire nel senso a modo di dire dalla diaspora usciremo dalla diaspora finirà la diaspora questo anche sarà con tanti miracoli come lo era l'uscita l'esodo dall'Egitto perciò esodo esodo tutti e due con la stessa diciamo adesso infatti vi è molto in comune fra i miracoli che accaddero all'epoca dell'esodo e quelli che avverranno all'epoca della relazione futura c'è un simbolismo un parallelismo molto profondo tra quello che era in Egitto è quello che sarà per noi ci è così possibile avere un'idea di quale rapporto vi sarà in futuro tra gli ebrei e le nazioni così come gli ebrei che erano odiati di colpo gli egizi hanno cominciato ad amarli così anche gli ebrei oggi che siamo odiati da tante persone nel mondo quando arriva la Mashiach anche noi finalmente potremo trovare grazie ai loro occhi all'epoca della redenzione i sentimenti dei popoli nei nostri confronti cambieranno completamente e nasceranno in maniera spontanea manifestazioni di simpatia e di sostegno da parte loro perciò oggi vediamo tanti gentili nel mondo che nonostante che ci sia questa netta separazione tra Israele e gli altri popoli per la guerra che sta succedendo perciò oggi tanti tantissimi tanti tantissimi vanno contro eccetera ma tantissimi non ebrei prendono la posizione prendono le difese di Israele questo è un segnale oggi difendere Israele hai soltanto da perdere perché oggi veramente c'è questo non si capisce ancora perché ma c'è questo grande per la Palestina allora chi oggi e vi racconto una cosa c'è stato il giorno mi viene in mente adesso vi ricordate che a Hanukkah ho messo una hanukkah nel Carrefour qui di San Gimignano no proprio all'entrata la hanukkah anche l'anno scorso per questo ho dovuto parlare con il direttore il quale subito ma proprio senza battere ciglia ha detto non ci problema mettila pure e già questo era proprio mezza la guerra è già questo uno che prende la posizione stiamo parlando di un esercizio di un business perciò lui deve anche sì che tanti ebrei vanno in questi supermercati ma sempre in minoranza degli altri clienti ovviamente perciò lui poteva dire senti guarda è un momento delicato avvi pazienza quest'anno schipiamo teniamo un attimo un profilo basso e io l'avrei capito anzi io ero pronto a questa risporta quando mi metto che invece me lo dava io non riuscirò a cadere le mie orecchie ma con velocissimo perciò ci siamo conosciuti lui aveva il mio numero mi chiama qualche giorno dietro e dice se contesemente posso andare lì devi chiedermi un favore ok io vado e mi dice così in questo supermercato qui questo Carrefour qua c'è un angolo con dei prodotti con dei prodotti Cosher c'è diversi angoli secco fresco figurifero eccetera eccetera e lui mi sta dicendo che vuole mi stava chiedendo consiglio a me di voleva spostare tutta questa zona del cashier anziché diversi scopartimenti fare tutt'unica un isolotto unico dove comprende tutto quello che è e non dispersivo come oggi e mi voleva chiedere consiglio e così via ah beh abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto e gli ho detto quello che gli ho detto non è importante di fare questo colore questo altro colore questa scritta gli ho cambiato un po' quello che già avevano mi ha fatto vedere dove vanno a mettere il senso è rimasto scioccato proprio in un posto molto visivo ok che è business siamo d'accordo che non lo fa per beneficenza però comunque lui sta mettendo bandiere di Israele come gli ho detto io di fare di mettere una bella bandiera di Israele bianco azzur eccetera eccetera e lui ha affettato scrivere e mandare il messaggio a tutti dove c'è proprio una zona che appena entri non puoi non vedere alla sinistra di commenti della California all'interno proprio una zona grande con questa mega bandiera di Israele che ci sarà con tutti i prodotti costituti kosher eccetera ripeto è marketing è vero comunque lui dà un servizio alla comunità ebraica e comunque lui non ha paura di mettere una bella bandiera di Israele qui in un centro che la maggior parte non sono ebrei perciò questo mi oserei dire che anche questo è uno dei segni della redenzione che anche non ebrei avranno in qualche modo questo amore per gli ebrei ma andiamo avanti siamo arrivati allora siamo a pagina 199 stiamo in mezzo a leggere questo commento alla penultima riga il popolo ebraico che allora vivrà al di sopra a venerdì cioè qua stiamo dicendo che così come gli egizi avevano amore verso gli ebrei anche noi prima della redenzione avremo grazie agli occhi dei non ebrei il popolo ebraico che allora vivrà al di sopra delle limitazioni fisiche perciò quando arriva a Shea non c'è più ma di sopra della natura perché farà miracoli e così via e sarà oggetto di rivelazioni miracolose una dopo l'altra otterrà il pieno sostegno da parte del mondo materiale ossia di quello degli altri popoli così si ripeterà in proporzioni dei gran lunga maggiori del fenomeno del miracolo in vesti naturali perché lì dagli egizi è detto che era tutto un miracolo però in vesti naturali qui invece sarà molto di più che avvenne l'occasione questo è quello che avrebbe tutto questo che abbiamo detto è una spiegazione che avrebbe che appunto quando noi usciremo come dice il profeta anche noi riceveremo i miracoli ma saranno i miracoli molto più intensi molto più forti di quello che era perciò avremo miracoli già l'Egitto era veramente grandi miracoli e quando era Mashiach avremo dei miracoli ancora più profondi più forti qua ci manda adesso per approfondimenti si vede a pagina 670 andiamo a pagina 670 il titolo è prenderete il doppio purché ve ne andiate questo si riferisce al passo 12 35 un midrash del Shemot che dice così era il mattino del 15 di Nissan vuol dire 14 sera c'era la morte dei primogeniti perciò l'indomani mattina del 2448 perciò 1312 avanti era volgare sul scuolo egizio giacevano morti e moribondi dalla sera prima morti primogeniti non tutti i primogeniti però erano periti immediatamente Hashem li aveva giudicati individualmente quindi per alcuni l'agonia si era profonda fino al mattino perciò non tutti sono morti la sera prima ma altri hanno pian piano morivano la mattina altri ancora avevano sofferto per tre giorni prima di morire non vi era una sola casa egizia in cui non ci fossero cinque o addirittura dieci vittime poiché oltre ai primogeniti Hashem aveva colpito gli egizi malvagi non soltanto i primogeniti ma anche gli egiziani che erano malvagi e i shahim che si erano posti alla liberazione dei figli israeli perciò la notte prima che tutti morivano e tutti rincorrevano gli ebrei per mandare liberi c'erano quelli che si opponevano no non lasciavano andare liberi questi anche sono morti perciò dai cinque ai dieci vengono in famiglia gli egizi però non rimasero con i loro morti fuggirono a Goshen dove Goshen era quella regione dove gli ebrei abitavano con animali e carri implorando i figli israeli di partire perché pensavano che altrimenti sarebbero morti tutti perciò quando loro venivano tutti questi morti pensavano che morissero tutti sono corsi agli ebrei per chiedere di andare via prima di andare i figli israeli chiesero ai vicini egizi ora genti vestiti ricordando che Dio aveva detto a Mosè per favore tutto linea per favore di agli ebrei di chiedere ai loro vicini egizi ora genti utensili così si realizzerà la promessa che ho fatto a loro a loro antenato Abraham che sarebbero usciti dall'Egitto con grande ricchezza ok la domanda è perché Hashem espresse questo comando a Mosè sotto forma di richiesta per favore via agli ebrei ma se è vero che gli ebrei siamo un po' amanti delle ricchezze non c'era bisogno di così tanto un invito così specifico per favore Mosè fai sicuro che gli ebrei prendano perché nessuno può essere normale lo deve implorare di prendere oro argento è una cosa abbastanza naturale perché qua Dio dice per favore Mosè mi raccomando si può comprendere la risposta con il seguente racconto un uomo aveva trascorso molti anni in condizioni terribili in un campo di lavoro alla fine gli venne detto domani verrai liberato quando partirai riceverai anche una fortuna pensate che io voglia denaro ribattere l'uomo partimi soltanto vivere il momento in cui verò finalmente liberato da questo luogo e mi affratterò me ne andò felice anche senza un solo soldo normale uno che è sofferente non vuole fare un secondo in più lascia di uscire grazie anzi ti favo io Dio teneva teneva è scritto tra virgolette ovviamente che i figli di Israele una volta ottenuti la libertà avrebbero avuto fretta di fuggire ignorando il comando di chiedere denaro agli egizi come questa storiella qua Dio non voleva che gli ebrei presi dalla foga dalla felicità di uscire non volessero neanche un centesimo per questo motivo adesso era preceduto da una formula di richiesta per favore Mosè per favore ricordi gli ebrei di uscire non lo fanno però lo fanno per me io voglio che lo riescano con tante ricchezze inizialmente gli egizi cercarono di negare il possesso di oggetti di valore tuttavia i figli di Israele descrissero esattamente l'ubicazione la forma e la quantità della loro proprietà avendo preillustrato accuratamente le case degli egiziani durante i giorni di scurità ma ricordate quando c'era il buio gli ebrei comunque riuscivano a vedere andavano nelle case vedevano esattamente cosa hanno cosa non hanno dove si trova e quando qui alcuni egizi non volevano dare gli ebrei dicono ma io ho visto che tu lì hai questa l'ingotidore eccetera gli egizi non diedero loro soltanto gli oggetti che avevano chiesto ma ne consegnarono due di ciascuno se hanno chiesto una con la d'oro gli andavano due dicendo prendetene il doppio purché venagliate pagina accanto 671 i figli di israele vuotarono l'egitto dei suoi beni quel denaro aspettava loro a causa di tutte le proprietà che si lasciavano alle spalle nonché ricordiamoci che gli ebrei erano lì prima avevano case avevano territori avevano e uscendo dall'egitto lasciavano tutto lì perciò ripetiamo i figli di israele vuotarono l'egitto dei suoi beni quel denaro aspettava loro a causa di tutte le proprietà che si lasciavano alle spalle nonché per i 210 anni di duro lavoro essere costretti a cedere la propria fortuna ai figli di israele faceva parte della punizione inflitta agli egizi perciò questo dover dare era parte della loro punizione adesso qua riporto di nuovo una storiella al capo cuoco del palazzo reale fu consegnata una somma considerevole con cui acquistare un pesce per la tavola del re ritornò con l'unico pesce trovato al mercato un pesce malodorante per cui aveva speso tutto il denaro cercò di cucinarlo con molti condimenti e spezie per mascherare il sapore ma quando il re capì ciò che era successo disse sarai punito per la tua negligenza scegli tra mangiare questo pesce pagarlo o ricevere cento colpi di frusta o te lo mangi o ve lo ripaghi o prendi cento frustate questo era il suo diciamo castigo voglio mangiare il pesce rispose il cuoco iniziò a mangiarlo ma era così disgustoso che non riuscì a continuare preferisco i colpi disse i soldati del re lo presero e iniziarono a frustarlo quando sentì la frusta abbattesi sul corpo urlò dal dolore fatemi fermatevi preferisco pagare così ripagò tutto il valore del pesce dopo averlo assaggiato e dopo aver anche subito i colpi di frusto un po' quello che ha detto con gli egiziani hanno perduto le botte le piaghe poi hanno pagato anche i soldi e hanno tutto hanno passato solo allo stesso modo il faraone e gli egizi pagarono a caro prezzo i loro crimini contro i figli di israele questi sono i crimini non quelli che dicono oggi crimini di guerra questi sono i crimini che hanno fatto loro al popolo imbeco l'hanno pagata dura dapprima furono colpiti dalle piaghe e in seguito dovevano ripagare gli ebrei con oro e argento ogni ebreo uscì dall'egitto portandosi appresso 90 asini carichi di oro argento e perle ogni ebreo ogni ebreo aveva 90 asini carichi di oro argento e perle mentre i figli israeli si occupavano di prelevare le ricchezze dall'egitto ripeto il 15 di nissan da lì a poche ore dovevano uscire mentre tutti erano lì a prendere gli ori di argento degli egiziani Mosè era impegnato in una mitzvah diversa era infatti intento a preparare la bara di Giuseppe diciamo Giacomo era uscito aveva chiesto di essere separito in Israele Giuseppe invece voleva rimanere lì per stare con per dare conforto e stare lì comunque vicino al popolo ebraico anche se era morto però lui aveva fatto chiedere Giuseppe aveva chiesto prima di morire quando arriverà il redentore cioè Mosè prima di uscire dall'Egitto ricordate di portare le mie ossa fuori da qua sto qua con voi finché sarete anche voi però quando voi uscite portate anche a me fuori no? Era infatti intento Mosè a preparare la bara di Giuseppe per portarla alla sepoltura finalmente in terra di Israele come gli avevano promesso i suoi figli non gli ha fatto promettere ai suoi figli di portarlo in Israele Mosè cercò la bara di Iosef per tre giorni ma la sua ricerca fu vana non lo trovava infine incontrò Serach Serach era la figlia di Asher Asher era uno dei fratelli di Giuseppe uno dei Deutch Tervu questa figlia di Serach questa figlia di Asher era ancora viva una donna molto anziana che ricordava gli avvenimenti accaduti all'epoca di Giuseppe che era suo zio no? sì quella era la nipote di Giuseppe questa sera condusse Mosè in un determinato punto in riva al Nilo e indicando il fiume gli rivelò che i maghi del Faraone avevano posto la salma di Iosef in una barra di metallo barra di metallo che avevano poi gettato nel Nilo perché perché avevano fatto questo i maghi del Faraone avevano sepolto Iosef nel Nilo perché desideravano trattenere gli ebrei in Egitto per sempre avevano detto al Faraone gli ebrei hanno promesso a Giuseppe di sepedire in Israele no? se nascondiamo la barra ed essi non riusciranno a trovarla non potranno mai partire inoltre gli astrologi credevano che le acque del Nilo sarebbero state benedette dalla presenza delle spoglie di Giuseppe perciò per questi motivi loro hanno buttato la salma di Giuseppe in una barra dentro al Nilo sia per buon auspicio per benedizione anche per evitare che gli ebrei escano presso le acque del Nilo Mosè chiamò Yosef Yosef è giunto il momento che Hashem attui la sua promessa di liberare i figli di Israele ed è giunto il momento di realizzare quanto ti abbiamo promesso se emergi prenderemo la tua tomba ma se non lo fai saremo prosciolti dal nostro voto questo sta ballando con l'anima di Giuseppe o un movimento non Mosè gettò nel Nilo una lastra di metallo con inciso il nome di Dio e la vara affiorò immediatamente perciò nei meandri del Nilo lì dove si trovava la vara di Giuseppe parliamo di dopo 200 i passati che la vara era lì nel Nilo appunto Mosè non la trovava buttando questa vara con l'uomo di Dio la vara è venuta miracolosamente ovviamente è venuta a galla e loro hanno potuto portare come da promesso le ossa di Giuseppe in Israele per poi sepedirlo domande intanto ma questa questa lastra non è la stessa che poi fu buttata nel crogiolo che venne fuori il vitello d'oro sì in realtà è una cosa positiva negativa insomma in realtà io questa storia qui che c'era scritto il nome di Dio è la prima volta che lo sento io sapevo che c'era scritto le due parole Ale Shor in questa lastra Ale Shor è vero sì 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 Ale Shor vuol dire Sali adesso ricordo Sali Ale Shor è toro perché Giuseppe il suo simbolo era il toro ogni fratello aveva un animale come simbolo e Giuseppe il suo era il toro perciò buttando la lastra con scritto Sali toro Giuseppe è salito ragione per cui come lei dice qualcuno ha tenuto questa barra qui e l'ha buttata nel fuoco con tutti i metalli fusi più avanti e allora il vitello d'oro è uscito fuori anche grazie per colpo grazie a questa barretta qua perciò giustamente anch'io non capisco come mai questo testo ha scritto adesso mi è venuto il collegamento sì sì grazie ma bisogna chiedere qua da dove hanno preso che c'era il nome di Dio quando in realtà c'era scritto Sali Toro ok torniamo a pagina 199 andiamo avanti nei passi passo 37 i figli di Israele partirono da Ramses verso Tukot che è una località circa 600 mila uomini a piedi oltre ai bambini vediamo 37 cosa dice il commento da Ramses verso Tukot non è la Ramses di cui se ne parla del verso 1-11 secondo la tradizione Tukot si trovava a 120 o a 130 miglia miglia ebraiche miglia vuol dire in modo come si calcola le miglia in ebraico comunque da Ramses ossia 160 o 175 chilometri Tukot si troverebbe lungo il golfo di Suez o nell'area settentrionale della penisola del Sinai Tukot e Ramses distavano l'una dall'altra tre giorni di viaggio perciò qua dice che non è la stessa Ramses comunque quello è un dettaglio 600.000 uomini abbiamo detto chi esce dall'Egitto 600.000 uomini al di fuori dei bambini il numero esclude i bambini esclude le donne e gli egiziani la popolazione che lasciò l'Egitto ammontava quindi a circa 3 milioni e mezzo di persone senza contare gli Erevrav Erevrav erano quel gruppo di egiziani che hanno voluto convertirsi in ebraismo e hanno chiesto a Mosè di poter far parte del popolo ebraico e poi tra l'altro questi Erevrav erano quelli che tutte le varie problematiche nel deserto le lamente le discussioni erano sempre loro questi egizi erano sempre loro che cominciavano tutte le varie diciamo dispute perciò in tutto erano no senza questi Erevrav proprio ebrei bambini uomini donne erano tre milioni e mezzo ad uscire dall'Egitto stifra che rende l'idea dell'immensa portata del miracolo un conto è far uscire cento persone mille persone un conto è far uscire tre milioni e mezzo di persone tra cui uomini donne bambini anziani no perciò fa vedere quanto questo miracolo era veramente dettagliato tutte queste persone seguirono Mosè per recarsi in un deserto senza sapere che cosa avevano mangiato tre milioni e mezzo di persone escono e seguono Mosè senza anche avere un pezzo di panna neanche un pezzo di panna avevano avevano un impatto crudo cosa ne fa un impatto crudo però loro hanno seguito Mosè ciecamente la loro fede fu incondizionata e riposta completamente in nascendo non è normale tre milioni e mezzo bambini uscire nel deserto nel deserto ricordiamo non c'è niente non c'è cibo non c'è acqua di giorno c'è un sole che può uccidere dal calore di sera c'è un freddo che può uccidere perciò era un posto invisibile in qualsiasi tipo serpenti scorpioni eppure gli ebrei quarant'anni hanno vissuto ma sono usciti proprio senza pensare cosa mangeremo cosa daremo ai bambini da mangiare perciò la loro fede fu incondizionata e riposta completamente in Hashem diversi secoli più tardi Hashem menzionò al profeta Yermia l'indimenticabile merito del giovane popolo servo in memoria la bontà di quando eri giovane seguendomi nel deserto in una terra non seminata perciò questa azione qua di pura fede che gli ebrei hanno dimostrato di uscire tre milioni e mezzo senza niente da mangiare eccetera ovviamente Dio non lo dimentica infatti qua dice che diversi secoli più tardi Dio ricorda al profeta Yermia questa cosa che gli ebrei hanno fatto e dice bontà di panteri giovane seguendo nel deserto in una terra non seminata questo ci fa vedere che ci fa capire una cosa molto interessante che noi molte volte facciamo delle cose e diciamo ma se Dio si accorge che io oggi nella mia casetta non so dove ho messo tefillin o meno Dio ha così tanto da fare ma miliardi di persone da curare da fare un mondo intero da giustare si accorge se io oggi ho messo tefillin o meno se ho acceso le candele o meno di Shabbat se ho fatto il mitzvah molte volte è normale chiederselo molte volte noi ci chiediamo ma io sto facendo ma veramente Dio mi vede che io ho fatto la mitzvah questa è la risposta una delle risposte qua che dopo centinaia di anni Dio lo ricorda ancora io non dimentico quello che gli ebrei hanno fatto che mi hanno seguito in un momento dove era improponibile seguirmi e di andare nel deserto così senza niente scusate l'ora 19.23 ok andiamo ancora un pochettino avanti passo 38 anche appunto lì c'era che i bambini 3.500 anche una grande moltitudine di persone sta lì con loro e montoni e poi delle mandrie molto numerose chi è questa moltitudine di persone proprio loro erano 38 una grande moltitudine persone di diverse nazionalità si convertirono all'ebraismo e seguirono gli ebrei ammontavano più di un milione di individui perciò in tutto 4 milioni e mezzo 39 cossero l'impasto che avevano portato fuori dall'Egitto e ne fecero focacce di azime poiché non era lievitato in quanto essendo stati cacciati dall'Egitto non avevano non avevano potuto indugiare né si erano fatti delle provviste perciò una volta per strada hanno cucinato l'impasto e hanno fatto quello che si chiama ugot mazzot focacce di mazza adesso andiamo a vedere cosa vuol dire focacce di azime il termine ugot da noi tradotto con focacce indica un prodotto da forma quello che Talmud dice gli ebrei ah sentite questo interessante gli ebrei fecero di questa forma in ricordo delle focacce preparate da Sarà in onore degli angeli venuti a visitare Abramo quando i tre angeli famosi sono venuti a casa di Abramo a dirgli che fra un anno avrà un figlio e a dirgli che vanno gli studi non so dove mora eccetera quando era era Pesach sì che Pesach non esisteva ancora ok Pesach non doveva ancora arrivare ma abbiamo spiegato che in realtà i nostri padri già facevano le mitzvot prima ancora che venissero comandate perciò Abramo già mangiava la mazza fa ridere no? è strano che lui mangiava la mazza in ricordo dell'uscita dell'Egitto 400 anni prima però era così perciò tornando al punto queste focacce di mazza che gli ebrei hanno cucinato nel deserto gli ebrei la fecero di questa forma in ricordo delle focacce preparate da Sarà in onore degli angeli venuti a visitare Abraham che era Pesach essendo il pane il cibo essenziale per la sopravvivenza questo è interessante i pagani usavano preparare il pane con un numero di punte quanti erano gli dèi di cui credevano perciò se loro avevano dieci dèi i postesi il loro pane aveva dieci punte in onore dei loro dèi i nostri padri che credevano in un unico dio preparavano invece pani rotondi senza punte un unico dio senza punte Stefania lei forse non c'era ancora è entrata un po' tardi ma all'inizio Fredene Val di Mare ecco all'inizio della puntata di oggi ho risposto alla sua domanda di settimana scorsa del perché gli animali i primogenti sono morti eccomi ecco però per non ripetere perché gli altri l'hanno già sentito è all'inizio della lezione grazie domani ho iniziato con quello grazie a lei e perciò il pane era rotondo senza punte per differenziare appunto dell'idea dei pagani io direi leggiamo quest'ultimo pezzetto poi basta il box qui giù in grigio per saperne di più dice un giorno predestinato il 5 di nissan accaddero diversi eventi significativi per la storia del popolo ebraico dall'epoca di abraham fino all'esodo stesso il 5 di nissan io sono nato il 6 per un giorno perciò per un giorno potevano aggiungere qualche suonato era già fuori era già fuori eh già fu decretata allora nel 5 di nissan perciò nel 5 di nissan accaddero da abraham fino all'esodo in questi 400 anni in questa data sono capitate queste cose qua 1 fu decretata la schiavitù egizia nel patto delle parti vuol dire quando dio ha chiamato abraham dicendo che appunto gli ebrei andranno schiavi era il 5 di nissan gli angeli preannunciarono ad abraham la nascita di ischac era il 5 di nissan un anno dopo esattamente nacque il schac ecco il 15 di nissan io ogni volta la grafica di questo libro il è perché me ne sono accorto adesso perché pensa che non è il 5 di nissan il 15 di nissan e il 15 di nissan essendo che chi ha il testo guardi un attimo la prima riga l'1 dal 5 è distante cioè non sembra 15 non è scritto bene ma ogni volta è così non so perché i numeri quali vengono male quando lo scrivi nel ragione per cui mi sono fermato adesso ad un attimo a capire ma come è possibile che il 5 di nissan perché era il 15 di nissan che era pesa perciò mi raccomando non bisogna mai leggere senza pensare bisogna pensare quando si legge perciò il 15 di nissan non il 5 fu decretata la schiavitù egizia gli angeli pronunciarono ad abramo la nascita di ischak un anno dopo perciò a pesach è nato ischak iosef uscì di prigione era di pesach i figli di jacob scesero in egitto era di pesach interessante sono entrati e usciti a pesach proprio interessante le acque dell'egitto si trasformarono in sangue era pesach gli ebrei uscirono dall'egitto interessante ok parola a voi beh quindi potremmo dire che iosef è uscito due volte perché a pesach la prima volta esce di prigione e la seconda volta esce con abramo con abramo con abramo giusto quando lo tira fuori dal nilo insomma quindi ha avuto due uscite due uscite bello 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 giusto qualcos'altro che avete da aggiungere da chiedere no forse tre volte Rav perché la terza volta quando arriva Messia a pesach arriva Messia no ma ma c'è che arriva oggi mica a pesach va bene entro a pesach deve arrivare entro a me a me a me a me ok qualcun altro mi sentite ok come un altro ho capito una cosa però quando dice richiesero gli oggetti di argento eccetera no prima dice va yi shal hu e shal chiedere no sì e poi dopo quando dice e gli agizzi glieli donarono usa lo stesso verbo dove legge mi dice il passo è il 30 la fine del 30 ah va yi shi hu veni a slu 30 allora vediamo un po' no 30 non può essere di notte parossi no 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 36 scusi no ecco 36 sono rischiati piccoli 36 ma dice chiesero shal e va bene ma poi perché usano lo stesso verbo glieli donarono allora guardiamo in ebraico veni a stare da su chiedere ma c'è l'israel mizraim ok ma c'è notan et ken aham bene mizraim ma ishal l'um è sempre si è sempre che no no capito quindi il soggetto non sono gli egiziani sono sempre gli ebrei che chiedono e ricevono sì perché in italiano viene tradotto in un altro modo qui di nuovo non è passivo ma chiedono due volte sì e Hashem ha dato grazie agli occhi degli egiti e gli ebrei chiesero e svuotano chiedono e svuotano e svuotano sì la domanda è molto lecita perché la traduzione non è non è proprio non è proprio giusto giusto ma non è passivo ma è attivo grazie gli ebrei stanno richiedendo molte volte quando se non c'è il testo ebraico accanto è quasi impossibile scrivere la traduzione giusta e vera e proprio periciera della torata perciò quando uno c'è l'ebraico accanto può capire cosa vuol dire qualcosa altro qualcuno vuole chiedere Corina vuole chiedere qualcosa no grazie sì una domanda allora si dice che sono usciti senza niente da mangiare così eppure c'è scritto che salirono con loro e montoni e buoi delle mandrie molto numerose perché dice allora che non avevano da mangiare che sono usciti perché quegli animali erano probabilmente destinati a essere sacrificati perché loro quando uscivano dovevano sacrificare per la scena ma comunque a un bambino tu non gli dai un montone da mangiare cioè però siamo d'accordo la carne c'era la carne c'era la carne c'era ma era destinata a sacrifici se non ricordo male era destinata a sacrifici me lo segnino e la settimana prossima le rispondo grazie